Grazie a Don Daniele. Tra le cose che ha detto mi è tornato in mente proprio sulla questione della comunicazione che attraverso la Bibbia si ha, della comunicazione salvifica. Il famoso errore di traduzione che si fece di quel brano, di quella formula della Dei Verbum dove si legge Nostre salutis causa che fu letto come apposizione di Dio, Dio causa della nostra salvezza, si è fatto conoscere, si è rivelato attraverso le scritture. Perché bastava sapere un po' il latino per rendersi conto che quella non era una posizione ma era un complemento di fine, si è manifestato, si è rivelato nelle scritture per la nostra salvezza. Purtroppo questi sono gli effetti della decadenza della conoscenza della lingua latina un po' da tutte le parti. Dopo aver fatto una specie di notazione sulla conoscenza del latino do la parola a Don Leonardo Salutati che è anche lui docente della nostra facoltà teologica, insegna in modo particolare teologia morale e sociale, insegna anche a Roma. E gli diamo ovviamente l'ultimo compito cioè di parlarci e presentarci la Gaudium et Spes che è l'ultima delle quattro costituzioni conciliari. E dunque senz'altro ti do la parola. Grazie. Grazie a voi. Allora la prendo un po' alla larga ma vedrete in maniera molto pertinente e aderente per entrare nella Gaudium et Spes perché fin dall'inizio il tema principale del concilio per Giovanni XXIII che l'ha indetto doveva essere quello dell'aggiornamento. Di questo aveva parlato anche se in modo generico nell'allocuzione che fece i cardinali nella Basilica di San Paolo fuori Remuria nel 59, il 25 gennaio. E con questa parola indicava la necessità che la Chiesa annunciasse il Vangelo all'uomo contemporaneo in modo adeguato alle specifiche esigenze dei tempi. Per questo chiedeva alla comunità dei credenti di lasciarsi alle spalle la lunga stagione di lotte, contrapposizioni che spesso aveva visto su versanti opposti la Chiesa e il mondo moderno e di superare una mentalità intransigente che aveva caratterizzato buona parte del Magisterio ecclesiastico e una certa pratica pastorale. Con aggiornamento il Papa inoltre intendeva la disponibilità dei cattolici e della Chiesa nel suo insieme a ricercare una rinnovata inculturazione del messaggio cristiano nella vita e nel pensiero contemporaneo. Così si esprime Marie-Dominique Chenoux, uno dei padri di Godot-Mespès. Aggiornamento non significa solo qualche modifica di parole in un linguaggio stereotipato. Indica invece la sostanza permanente e autentica della fede, un'interiore invenzione di concetti, di categorie, di simboli che siano omogenei alla mentalità, alla cultura, alla lingua, all'estetica degli uomini di oggi. Altro concetto chiave presente fin dall'inizio nella mente del Papa è la pastoralità del concilio. Il principio da lui affermato in diverse occasioni è spesso frainteso. Secondo alcuni, infatti, con tale accentuazione, il Papa intendeva superare il binomio tridentino dottrina-disciplina, fede-morale come fondamento del lavoro e delle decisioni conciliari. Tanto che, nelle sue confidenze al Cardinale Tucci, un altro padre di Godot-Mespès, il Papa criticava, cito, quei padri conciliari che, per il fatto di essere stati professori di teologia, credono di dover fare dei testi conciliari dei manuali di teologia. Ciò, di fatto, significava rinunciare alla definizione di nuovi dogmi o alla formulazione di nuove condanne per adottare uno stile fraterno, ispirato all'accoglienza, al rispetto dell'altro, aperto al dialogo, alla condivisione, con un orientamento non conflittuale verso il mondo dell'opera del concilio e ponendosi in discontinuità con una certa prassi della Chiesa, sia a livello dottrinale che pastorale. Pastoralità e aggiornamento, così intesi, hanno posto le premesse per evitare che la teologia fosse intesa come concettualizzazione astratta e come isolamento della dimensione dottrinale della fede rispetto alla vita concreta, ma anche per superare un certo giuridismo, ovvero quell'atteggiamento che ha esagerato la funzione del diritto nella vita della Chiesa, dando l'impressione, spesso che però non riguardava tutta la Chiesa, di una Chiesa piuttosto autoritaria che autorevole e attenta alla dimensione relazionale e comunionale dei suoi membri. Il principio di pastoralità è stato interpretato da alcuni come un elemento di debolezza del Vaticano II, in generale, e di Gaudon Spes in particolare, considerandolo come una categoria teologica secondaria rispetto ai dati dottrinali della Rivelazione, come se essa riguardasse soltanto il momento dell'esecuzione. A tale riguardo, sempre Chenou ci ricorda quanto precisato nella nota previa a Gaudium Spes, la nota proprio sul titolo di Gaudium Spes, dicendo che tutto questo concilio è pastorale, come presa di coscienza da parte della Chiesa della sua missione, tutto questo concilio è dottrinale, perché esso vuole essere la presenza del Vangelo per e nella Chiesa. E aggiunge, originalità sensazionale di un concilio che, senza ignorare gli errori, le malvagità, le oscurità di questo tempo, non si pone un atteggiamento di tensione o di chiusura verso di esso. Tal elemento fece subito breccia nella mente dei padri conciliari e alcuni dei primi schemi furono criticati e respinti già nella prima sessione del concilio, proprio sulla base del principio di pastoralità, che secondo i padri era disatteso. A tutto questo si deve aggiungere la costante preoccupazione di Giovanni XXIII per i poveri, già manifestata esplicitamente e formalmente in materia del magistra del 61, però sulla linea dei precedenti interventi del Magistero Sociale della Chiesa. È da prima del 1891 Rerum Novarum che la Chiesa recupera questa attenzione formale e istituzionale. È una sollecitudine che accompagnerà il Papa fino alla fine. Infatti, nell'indire il concilio Vaticano II, preoccupato che tale finalità venisse oscurata dalla settantina di schemi preparatori, Giovanni XXIII la volle direttamente proporre al mondo nel radiomessaggio dell'11 settembre 1962 ad un mese dall'apertura del concilio con queste parole, che forse voi avrete già sentito. Il concilio dovrà contribuire alla diffusione del senso sociale e comunitario che è immanente nel cristianesimo autentico. Solo così la Chiesa potrà presentarsi come la Chiesa di tutti, ma anzitutto come la Chiesa dei poveri. È un'espressione che risuona frequentemente anche in Papa Francesco. Ma il primo che ha sottolineato che la Chiesa è la Chiesa dei poveri in realtà fu il Cardinale Gibbons in un memoriale a Pio IX per difendere un'associazione di lavoratori statunitense. Dicendo che se c'era stata un'istituzione che nella storia si era presa a cura dei poveri era stata proprio la Chiesa e volevamo venire meno proprio ad esso per un frainteso. È una storia un po' lunga, però è un'espressione che ricorre da tanto tempo nel Magisterio Sociale della Chiesa. Inoltre con Gaudium et Spes il Concilio intende opporsi a tutti i tentativi diretti o indiretti di limitare il campo d'azione e d'interesse della Chiesa a faccende meramente interne, relegandola, per così dire, nella Sacristia. La Chiesa, infatti, non può essere ridotta a una dimensione puramente intima e personale, bensì rivendica una voce pubblica non nel proprio interesse, ma nell'interesse degli uomini. Per questo Gaudium et Spes spiega che la presenza e la missione della Chiesa consiste nel manifestare il mistero di Dio il quale è il fine ultimo dell'uomo e al tempo stesso nello svelare all'uomo il senso della sua propria esistenza, vale a dire la verità profonda dell'uomo. E vede la Chiesa accompagnare uomini e donne nelle loro gioie, speranze, tristezze e angosce quotidiane, pur nella consapevolezza che dinanzi all'immensa varietà delle situazioni, delle forme di civiltà, di realtà soggette a continua evoluzione, l'insegnamento presentato dovrà essere continuato e ampliato. E inoltre precisa che è l'uomo considerato nella sua unità e nella sua totalità corpo e anima, cuore e coscienza, pensiero e volontà che è il cardine di tutta l'esposizione. E interrogandosi sulle questioni fondamentali dell'esistenza, che cosa è l'uomo, qual è il significato del dolore, del male, della morte, che continuano a sostistere malgrado ogni progresso, cosa valgono quelle conquiste pagate così a caro prezzo, che apporta l'uomo alla società e che cosa può attendersi da essa, un ulteriore elemento presente nella mente di Giovanni XXIII fin dall'origine fu avvertito nella percezione comune come la ragione immediata della convocazione del nuovo concilio ed era la chiamata all'unità di tutta la Chiesa di cui era stato da sempre un deciso sostenitore. A questo proposito, Giovanni XXIII ha scritto un'intera encilica sulla questione ad inizio pontificato, la Ad Petri Catedram, che affrontava il tema dell'unità tra i cristiani in generale, ma anche all'interno della Chiesa Cattolica. Ciò che il Papa intendeva sollecitare era la disponibilità dei cattolici a farsi coinvolgere in un cammino verso l'unità delle Chiese cristiane. Per questo desiderò, volle, che al concilio partecipassero nella vesta di osservatori attivi e non passivi i rappresentanti delle Chiese di Oriente e di Occidente e istituì il segretariato per l'unità dei cristiani. A questo riguardo sempre il Cardinale Tucci che ha raccolto tante confidenze di Giovanni XXIII riporta uno sfogo di Giovanni, di Papa Giovanni per alcune posizioni che erano emerse nella prima sessione del concilio a suo avviso troppo dura e poco aperta al dialogo, soprattutto in materia di scrittura e di ecclesiologia, riaffermando la vera natura del concilio che non aveva il compito, cito, di dirimere questioni dottrinali poiché non gli pareva venissero oggi agitate questioni la cui soluzione è necessaria per evitare gravi danni alla fede della Chiesa. Ecco, questo è il partire dalla larga, però vedete tutti questi temi noi li ritroviamo sviluppati in Gaudium Espes che attuava il piano formulato in sede conciliare di trattare della Chiesa in se stessa l'Humengensium e della Chiesa il rapporto al mondo e dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa aprirà la strada al suo perfezionamento e alla precisazione della sua identità come teologia morale. Velocemente lo schema di Gaudium Espes lo riporto qui e vi faccio notare che sono 93 numeri la prima parte di 45 numeri la seconda parte da 46 a 91 la prima parte dottrinale ma non manca dell'attenzione alla dimensione pastorale la seconda pastorale ma non viene meno diciamo non vengono meno i principi dottrinali nella seconda parte in famiglia in particolare si parla della famiglia della cultura della vita economica e sociale della comunità politica della comunità internazionale e del tema della pace e ciò che costituisce elemento unificante di tutta la riflessione offerta in Gaudium Espes è chiaramente espresso per questo lo dicevo attenti ai numeri al centro fisico del testo dove troviamo anche il centro logico del documento quando si afferma che il Signore è il fin della storia umana è un'affermazione che ci ricorda che esiste un progetto di Dio non soltanto sul singolo uomo ma anche su tutta la storia dell'umanità che ha nel Signore Gesù il suo traguardo di fatto tal'affermazione invita a superare quella visione della fede che la considera prevalentemente nella sua dimensione privata e che ancora oggi a volte condiziona il nostro modo di partecipare alla vita ecclesiale affermando l'importanza di una visione globale dell'umanità ed evidenziando che il compito della Chiesa non è la sola salvezza delle singole anime ma anche essere compagna di strada degli uomini i quali membri della città terrena chiamate a formare già nella storia dell'umanità la famiglia dei figli di Dio che deve crescere costantemente fino all'avvento del Signore per cui Gaudium Espesse vede la Chiesa come qualcosa che è dentro al mondo non di fronte contrapposta al mondo con il compito specifico di aiutare la società a raggiungere il suo traguardo infatti si dice che la Chiesa è insieme società visibile comunità spirituale cammina insieme con l'umanità tutta e sperimenta insieme al mondo la medesima sorte terrena ed è come il fermento e quasi l'anima della società umana destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi nuovamente in famiglia di Dio la modalità attenzione questo è un passaggio importante è il grande contributo di Gaudium Espesse la modalità per conseguire il traguardo indicato consiste nell'adottare negli esseri umani la stessa modalità della vita divina ossia il dono di sé 45 numeri della prima parte al centro di questa prima parte troviamo una fondamentale affermazione che ci ricorda che il Signore Gesù quando prega il Padre perché tutti siano uno come anche noi siamo uno mettendoci davanti orizzonti impervi alla ragione umana ci ha suggerito una certa similitudine tra l'unione delle persone divine e l'unione dei figli di Dio nella verità e nella carità questa similitudine manifesta che l'uomo il quale in terra è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa avrà a dire mai strumento di chi che sia o di qualsiasi cosa ma valore in sé non possa ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé qui troviamo un punto fondamentale della riflessione che è il grande contributo di Gaudi in spesso in seguito ulteriormente sviluppato dal magisterio successivo dei papi e in particolar modo da Giovanni Paolo II un'affermazione che sottolinea che ogni singolo essere umano ha una dimensione costitutivamente sociale relazionale che trova la propria realizzazione mediante la libera donazione di sé per il bene altrui che se acquisterà pienezza soltanto in Dio perché se è consapevoli che soltanto Dio dà risposta ai più profondi desideri del cuore umano che mai può essere pienamente saziato dagli elementi terreni tuttavia richiede modalità concrete per esprimersi secondo le caratteristiche della società dell'uomo la quale e qui cito Giovanni Paolo II si realizza in diversi gruppi intermedi cominciando dalla famiglia fino ai gruppi economici sociali politici culturali che provenienti tutti dalla stessa natura umana hanno sempre dentro l'orizzonte del bene comune la loro propria autonomia un sistema di relazioni in sintesi fondato sul dono reciproco è la vera autorealizzazione dell'essere umano in cui si esprime a livello etico la somaglianza con Dio anche se sottolinea Godium et Spes si parla di una certa similitudine perché non ci potrà mai essere uguaglianza tra comunione delle persone divine e comunione dell'umanità per cui ogni forma di attività umana dovrebbe essere dominata da questo imperativo è l'imperativo morale del cristiano ribadito anche più avanti quando nell'illustrare le caratteristiche dell'attività umana nella storia si afferma che l'uomo vale più per quello che è che per quello che ha parimenti tutto ciò che gli uomini compiono allo scopo di conseguire una maggiore giustizia una più estesa fraternità e un ordine più umano nei rapporti sociali ha più valore dei progressi in campo tecnico pertanto questa è la norma dell'attività umana che secondo il disegno di Dio e la sua volontà essa corrisponda al vero bene dell'umanità e permetta all'uomo singolo posto dentro la società di coltivare di attuare la sua integrale vocazione due dimensioni inseparabili e inseparate nella visione teologica che ricaviamo dalla rivelazione ed è proprio nella logica del dono di sé vado a concludere nella logica del modello trinitario che è pensabile la realizzazione della preghiera di Gesù quando chiede al Padre che gli uomini che gli ha dato dal mondo sia una cosa sola come noi siamo una cosa sola io in loro tu in me perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me questo è il progetto di Dio per l'umanità ed è quanto Gaudium et Spes declina e insegna nella sua esposizione ecco concluso ringraziamo anche Don Leonardo che ha affrontato l'ultima delle quattro costituzioni conciliari ora diciamo questo arriviamo alla conclusione davvero questa occasione l'occasione che ci ha radunati qui allo spazio reale stasera attorno alle quattro costituzioni è come accennava il cardinale all'inizio del nostro incontro è certamente dettato anche da un'indicazione che ci proviene dal comitato di preparazione al giubileo del 2025 di porre la nostra attenzione sulle quattro costituzioni conciliari del resto mi pare che venga a toccare anche una questione questa presentazione delle quattro costituzioni una questione che ha affaticato un po' i decenni scorsi con delle ragioni con delle ragioni certamente cioè la famosa dialettica fra testo e spirito del concilio Vaticano II sappiamo bene che il concilio Vaticano II ha una eredità e noi siamo questa eredità del Vaticano II se noi siamo oggi stasera a trattare il Vaticano II è perché veniamo dopo il Vaticano II siamo chiamati a riappropriarcene come chiesa come chiesa diocesana come chiesa universale d'altra parte però questa appropriazione non può che essere non può che passare attraverso quei documenti che esprimono esprimono al massimo grado il Vaticano II come assemblea conciliare radunata in vista della promozione di alcuni temi della soluzione anche di alcuni temi della chiesa ma anche della chiesa in rapporto al mondo come dice la Gaudium Spes evidentemente come ci ha mostrato appunto ora Don Leonardo è semplicemente un'offerta quella che facciamo stasera di inizio di cammino di riappropriazione del Vaticano II nella nostra diocesi in vista del giubileo del prossimo anno quello che ci preme preme appunto in modo particolare anche a questo comitato di preparazione al giubileo che si sta formando è quello di recuperare i grandi temi del Vaticano II perché diventino ancora l'infa vitale per noi oggi e che ci guidino alla preparazione concreta certamente del giubileo ma anche a riscoprire il senso per cui il Vaticano II ci è stato consegnato dalla Chiesa oggi c'è una cosa che mi piace dire è che gli anniversari servono sempre in qualche modo a recuperare il passato ma dovrebbero avere anche un senso per il presente altrimenti facciamo inutili commemorazioni oggi non è un anniversario formalmente il Vaticano II non si è concluso nel febbraio del 64 non sono 60 anni fa di fatto però il 65 sarà un anniversario il 2025 sarà un anniversario della conclusione del Vaticano II ma non ha senso recuperare il passato in maniera commemorativa se questo passato non può parlare al presente di oggi stasera era appunto un tentativo in maniera molto dinamica anche sintetica di presentazione di quattro costituzioni su cui si potrebbero fare non quattro conferenze ma quattro corsi alla facoltà teologica per esempio tuttavia appunto si tratta di lanciare input dare sollecitazioni dare sviluppi a queste costituzioni ancora oggi nella vostra chiesa grazie a tutti grazie a tutti